La Corte d'Appello di Lecce ha confermato la condanna risarcitoria nei confronti di Rita dalla Chiesa per aver diffamato il comune di Nardò durante la trasmissione televisiva Forum in onda su Rete4 il 19 aprile 2007. Nella puntata venne raccontata la vicenda di Luigi Stifanelli, il quale lamentava il fatto che l'amministrazione comunale di Nardò aveva omesso di trovargli un alloggio popolare, costringendolo, a suo dire, a dormire all'interno della propria autovettura. L'esposizione del fatto avveniva mentre Rita dalla Chiesa mandava in onda un repertorio fotografico in cui il cittadino neretino veniva rappresentato all'interno della propria vettura, utilizzata come alloggio di fortuna, ripetendo affermazioni denigratorie contro la città di Nardò ed evidenziando il menefreghismo e il disinteresse dell'amministrazione di fronte ai problemi della comunità. Il sindaco di Nardò, all'epoca in carica, Antonio Vaglio, aveva dato mandato al proprio legale avvocato Paolo Gabello di citare in giudizio Rita dalla Chiesa e RTI. Nel giudizio di primo grado, la conduttrice e giornalista televisiva e RTI erano state condannate in solido a risarcire il comune neretino con 20.000 euro, oltre al pagamento delle spese processuali. Secondo la Corte d'Appello, la verità dei fatti cui il giornalista ha il preciso dovere di attenersi non è stata rispettata, in quanto, si legge negli atti, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, sono stati taciuti altri fatti. La trasmissione televisiva aveva omesso di riferire le azioni di tipo sociale e amministrativo poste in essere dall'amministrazione nel periodo intercorso tra l'intervento dei giornalisti sul posto e la trasmissione del servizio, tra le quali il reperimento di un alloggio per lo stesso Stifanelli. La verità non è più tale se è mezza verità o verità incompleta.